80 anni di presenti a un filtro colore Sono delle cose erotiche Wow Che cos'è questo? Facciamo vedere com'è Qualcosa per bruciare l'aglio Che aiuta a stimolare la pulizia del viso Per farsi i massaggi alla guancetta, ai capelli Tangalo Guarda che sono vecchia eh Un coniglietto Facciamo saltare un po' Così Un oggetto da mettere sotto il letto Massaggi erotici, prova ad accenderla Anche nell'anno Ci sta venendo in formaggio Nel perineo Quando è che fa gli anni? Madonna che è in poliniera del sole Ma no Qualche parte bassa C'è a chi piace Per il sole Per tappare il b C'è un azzecato Un tappo per una bocchina Ciao Oddio È una cosa sensuale È una cosa sensuale Non è un massagatore È un vibratore Vibratore Che bella messi in faccia Massaggiatore esterno In realtà queste destine si possono anche cambiare Guarda Me lo sto immaginando Spermi alle donne Per il vino Sì Io non l'ho vista in generale Non ho mai visto un sex toy nella tua vita Lei è il colpo 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 Lei è il colpo